Il piano triennale dei lavori pubblici approvato lo scorso dicembre dai vertici dell'azienda sanitaria locale è molto penalizzante sia per il distretto di Battipaglia sia per l'ospedale Santa Maria della Speranza, ad affermarlo la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, che pone l'attenzione sul nosocomio battipagliese, che necessita di interventi strutturali significativi perché i cittadini di Battipaglia e gli utenti del presidio ospedaliero, afferma la sindaca, non sono di serie B. A detta del primo cittadino i 3,5 milioni stanziati non sono assolutamente sufficienti per adeguare l'ospedale ai più moderni standard europei e il distretto sanitario per una fruizione degna dei servizi. Mi aspetto, conclude la sindaca, un incontro a breve con il direttore generale per poterci confrontare sugli interventi da pianificare e finanziare.